no 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 faccio adesso il maglione da vecchio il maglione da vecchio? non ci hai detto che il maglione da vecchio quando ci bruci ahahahah buongiorno, buongiorno, siamo ritornati regà, manco di reali, ragazzi, scusa il cazzo devi mettere un allenamento, buongiorno, allenamento, vabbè raduno, allenamento, buongiorno, no tu hai detto allenamento, vabbè uguale dai, anzi è un raduno di amici, raduno, barra allenamento, è un raduno dai, siamo ritrovati, oggi siamo pochi, siamo 16 persone, mi piace la mano dopo tanti fermi, due anni, causa del covid, non sappiamo come va a finire, però intanto abbiamo organizzato questa, per coppare il covid, ci troviamo le amiche, infatti sì, ma le papere le affrontate? Oggi pesciamo le papere, facciamo le papere, allora ragazzi, ringraziamo i nostri sponsor, la bottega della frutta di San Cosimato, le piccole peste di Luca Solitari, pesca che è passione di Francesco Pacini, il Sir Kenny Rich Pub di Rigovaro e la tabaccheria della Crocetta, chi manca? Marco, che ci hanno fatto la sponsor per... Marco di Tiburpesca, che ci hanno fatto la sponsor per fare il rottino insomma, quindi ti ringraziamo, vi riconosciamo l'ultima, sia per tigure di pesca, cibi, caffè, sigarette e tutto il resto insomma, il pub è anche il di Rigovaro dove si sta bene, si mangia, si beve, si dite, si scherza, si balla, si canta e si fa tutto. E niente, eccoci qua oggi il 21 novembre 2021, 21 novembre 2021, tutti uno, meno che i due vabbè, e poi l'uno c'è stato, eeeh, grado 1 siamo tornati, eccoci qua. Marco, ciao ciao, ciao buongiorno, ciao Sergio, ciao buone cose, No, 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 sono tosi 40 e io sono 2,'m caffondi... 1, 2 giri da 15, 1 da 1, poi aujourd'io... 9, una bianca, com'è ancora? 10 docenti, 선�alki mieux, due vabbè, 6 сохondati. Sotto se ne stanno 10 e sopra, se non ti rende. e dai, otto, ambo! Uno! 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 Ho tutta la trasfonda! E' da qui, non c'è stato? Qua sei? E' da qui! No, no, no! Pazzotti, ci sono stati qua, a me, San Angelo! Buongiorno! Non è che è sbagliato uno? Buongiorno! 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 Sì, sì! No, no, no! Scusi! Io ho detto che è numero 5. Davanti ai cagliaci. Io c'è stato, ma poi non arrivo a parte, perché ho tornato a casa, ora! Ciao Alessandro, ben arrivato, buongiorno. Va bene ragazzi, adesso prendono tutti i posti, si preparano, ci vediamo quando iniziano a pescare. Ciao, ciao, a dopo. Ed eccoci qua ragazzi, la gara è iniziata, la gara, scusate, ormai è l'abitudine, la gara, un allenamento. Di 16 persone, vabbè dai, comunque stanno prendendo, stanno contenta dai. Lago bello, pulito, uno spettacolo. Ristorante dei Reali, vi auguro le papere. Ah, hai ragione, perché ci siamo dimenticati di dirlo, sta belando per cambiare. Lago dei Reali, 21, 11, 2000, 21, ma che bella. Ciao, ci ha salutato, vedi? Ciao, ciao. Buongiorno, eh. Aiuto. Ma chi sei? Ma che vuoi? Ma chi è vuoi? Aiuto. No, no, no. Da, da. Ma sono lontana, eh. E con sì e con sì, oh, vabbè, vabbè. Oh, ma la cannavese, andò stavo. Oh, ma ecco. Andavo, oh, oh, andò vado. Oh, stamattina vittica, ragazzi, eh. Mamma mia, che freddo. E' da quanto l'altro, forse chissà, ne avete chissà il 4-5 per l'altro, cioè. E muore, allora? Oh, stamattina, dai. Eh, sta pure che ne ha presa il 5-6, ha. Ciao, Marco. Buongiorno, eh. Ari, buongiorno. Buongiorno. Angelo. Allora? Due? No, due. Due. Alla vicuarese, due. Sandro. Sei proprio andato in Lazio. Ma il Sandro quanto pesca, proprio, eh. Sì, sei isola. Ma che sì, ma che buo, ma che cerchi. Ciao. Niente, eh. Niente da fa. Invece Marco non ha fatto tre quando sono passati. Sergio. Buongiorno. Buongiorno. Arri, buongiorno. 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 Allora? Bene, bene. Ci divertiamo. Ah, vabbè, dai. Meno male, va. Sono contento. Ci divertiamo. Che c'è sta? C'è sta mezza forma di procolone, oh. No. Che amo? Pecorino. C'è sta mezza forma di pecorino? Mmh. Magari io arrivo a te. Marco, ma dove ci si rischia più le papere? Ed eccoci qua. Abbiamo cambiato le cose. Ah, dillo. Stiamo facendo il primo cambio in giro. E' di cinque posti, cinquanta minuti, la pausa caffè, un bel caffettino. Già te l'ho preparato, eh? Caffè, vedi? Manca sangue, però. A zio, non che l'ho più. Oh, ha messo il zucchero già? Sì, che te l'ho visto. La vita già è tanta amara. C'è proprio il caffè amaro. Il tempo di un caffè è il tempo che si mettono nei loro posti e si inizia il secondo turno. Ecco, sto buttando le trote. Non riesco a capire, si vede un po' sfogato. Non so perché. Così, no. Questo è l'ultimo giro. Mi ho già fatto l'ultimo scarico. Ma non so la grassi... Ma non so la grassi via con me sta messa, vabbè. Quanto ferai? Guarda. Penso sei, sette, otto sicuro quasi. Io, da come ho visto, a Marco, dall'altra parte ce ne aveva tredici. Perciò Marco è il primo. Io ci sto da sotto. Poi c'è sta... Oddio, come si chiama? Solo uno che è il primo. Ce ne aveva undici, poi dieci, chi otto, chi nove, chi tre, chi quattro. Oh, che sono queste cose? Oh, che coca buia? Ci stanno preparando, credo. Mamma mia, se il sole in faccia non c'è vero niente. Dai! E' un bene con gli occhialetti. Passiglio, da un po' ti vedi? Sì, qua rifletta, infatti da passiglio. Passiglio il sole. Adesso ti sta sfogliando. No, pure questo, vai! Aurizio! Eccolo? Eccolo qua. Eccola qua, sto iniziando. Eccola qua. E' iniziata. Allora, ragazzi, questi sono i premi, sono premiati tutti quanti, tutte e sedici concorrenti. Anzi, diciamo gli amici, dai. C'è mezza forma di pecorino. Una lonza di capocollo. C'è un chilo di parmigiano reggiano. Un pezzo di salame a tartufo. Un mulinello. Spumante. Vino. E fino due bobine di filo da vesca. Il mulinello è stato offerto da Marco, chi vuol pesca. Lo spumante è stato offerto dal bar di Vicovaro, le piccole pesti. Il filo è stato offerto da Pacini. C'è il negozio di pesca. Eh, non mi ricordo. Altre cose, beh, sono state offerte da noi. E questi sono i premi. Sedici persone e sedici premi. Noi non facciamo torto a nessuno. O tutti, o niente. E eccole. Ed eccole. Si continua a pescare. Pesca, pesca, o mio pescatore. Pesca non ti fermare. La 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 la. Ma non mi ricordo più. E vai ragazzi. Un minuto. E si tirano fuori le canne. Fuori le canne. Fuori le canne. E' finita. E siamo alla fine. Andiamo a vedere le trote. Quante ne hanno prese. Chi di meno, chi di più, chi niente, chi due, chi dieci. E si offrirà un piccolo premio a ognuno di loro. Come ringraziamento che sono venuti. Questa bellissima giornata. Adesso andiamo a contare le trote. A dopo. A posto. Questi sono i premi, quelli più piccoli. Che dire. Eccolo i nostri ragazzi. Che arrivano, che dicono, che arrivano, che dicono. Zitto. Zitto. Allora, com'è andata? Com'è andata? Com'è andata. Com'è andata? Com'è andata? Com'è andata? Andiamo con le bottiglie di vino. Ma sera bivi, va. Com'è andata? Come si fa, Frank? Come si fa? Quello vedi in camera, dai. Vai Frank! Taggio visi! Dai a Claudio! Grazie! Grazie. Grazie. Grazie a tutti. No, vi ho avuto. Ok, io ho iniziato a guardare un po' di qua. Zitto. E' ma... C'è i grini? Zitto. Va bene, va bene. Oh, basta 6,5 tu eh. Oh, mi proteva? Zitto. Zitto, guarda qui. Zitto, guarda qui. No, questa è sfumante. Già sbagliata sfumante. E' uguale, va bene. Grazie. E' bomba, e' bomba, e' bomba. Marco, si vede però. Va bene, guarda. Oh, oh! Marco, ti fatto emozionare o? Guarda qui, guarda qui. Guarda qui, guarda qui. Guarda qui, guarda qui, guarda qui. Tanto la bolletta sfumante mi sono occhiata pure io. Ok. Allora... No, no, no. Perchè? Grazie. Perchè? 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 No, no. C'abbiamo l'imparta con questa modella. E andamooo! Parmareggio Grazie a tutti Grazie a tutti